Giovanni Taulero. Giovanni Taulero fu un domenicano tedesco e divulgatore del misticismo di Meister Eckart in lingua tedesca. Fu uno dei più grandi mistici e predicatori del Medioevo. Nacque a Strasburgo verso il 1300 e a Strasburgo morì il 16 giugno del 1361. Taulero era figlio di un signore benestante e pare che, ancora giovane, entrasse nell'ordine domenicano della sua città da che, secondo la sua stessa testimonianza, la vita ascetica di quell'ordine esercitava su di lui una grande attrazione. Forse, nel corso dei consueti otto anni di studio nel monastero, ha ascoltato i sermoni di Eckart, con il quale comunque strinse una più stretta conoscenza in seguito quando studiò all'università dell'ordine a Cologne, e probabilmente nello stesso contesto conobbe anche Susone. Non sappiamo se Taulero abbia studiato anche a Parigi. Si propende nel pensare che da Colonia si sia spostato a Strasburgo. E verso il 1339 e fino al 1348 Taulero visse a Basilea. Qui, insieme a Enrico di Nördlingen, era al centro di una grande società detta Gli Amici di Dio di Basilea. Questa società era composta da soggetti che amavano la vita mistica. Successivamente Taulero fece ritorno a Strasburgo, dove fu predicatore. Possiamo dire che il Meister Book degli Amici di Dio dell'Apostolato fornisce il ritratto di un maestro delle scritture che nel 1346 attirò molta attenzione con i suoi sermoni. Un giorno un laico accusò questo maestro di cercare solo la sua gloria personale e non quella del Signore, e aggiunse che probabilmente non aveva sopportato i fardelli che aveva imposto agli altri. Senza fare alcun accordo, il maestro si fece guidare dal laico e imparò da lui a dimenticare il mondo e se stesso, e a volgere tutti i suoi pensieri verso Dio, conducendo un'esistenza dedicata allo spirito. Per due anni visse recluso, e quando principiò a predicare nuovamente, la prima volta l'effetto fu talmente grande che 40 di coloro che lo stavano ascoltando ebbero le convulsioni e 12 poterono essere rianimati solo a stento. Dopo nove anni il maestro si ammalò gravamente e dopo aver chiamato il laico gli affidò un resoconto scritto della propria conversione, al quale l'uomo aggiunse cinque sermoni che aveva copiato precedentemente. Un tempo era ovvio identificare Taulero con questo maestro. Il Meisterbuch era del 1498, incluso nelle edizioni dei sermoni di Taulero. In tempi più recenti però è stata confermata più chiaramente questa opinione, anche se nel trattato Taulers-Beckerung Denifle ha portato prove schiaccianti contro questa teoria. In ogni caso gli oggetti, gli scritti di Taulero non sono stati ancora oggetto di una approfondita analisi critica. Si sa solo che molto di ciò che gli è stato attribuito è dubbio e molto non è autentico. Sicuramente Taulero non scrisse il libro intitolato Nakamung des Armen Lebens Christi o anche Fonder Geistlichen Armut. Gli esercizi a super vita e passione Jesu Christi e le canzoni spirituali che gli sono state attribuite sono anch'essi spuri. Nella migliore delle ipotesi Taulero scrisse solo una piccola parte del medulla anime o delle istituzioni sdivine, sicché solo i sermoni rimangono quale sua opera effettiva e certa. La prima edizione comparve nel 1498 a Leipzig e includeva 84 sermoni. La seconda, apparsa a Basilea nel 1521-1522, ne aggiunse altri 42, alcuni dei quali a ogni modo non erano considerati di Taulero. Nella terza edizione, Colonia 1543, ne vennero aggiunti altri 25, tra i quali ve ne sono altri che sono spuri. Quest'ultima edizione, Colonia 1543, venne tradotta in latino da Laurentius Surius e venne poi usata per traduzioni in varie lingue e per ritraduzioni in tedesco. Le edizioni moderne sono basate sulle vecchie edizioni tedesche. I sermoni sono tra i più bei monumenti alla lingua tedesca, al credo fervente di questa cultura e al suo profondo sentimento spirituale. Taulero usa un linguaggio pacato e misurato, anche se caldo, animato, denso di immagini. Taulero non è così congetturale come Meister Eckhart. È più chiaro, più pragmatico, più vicino alla gente comune. A tutto ciò si aggiunge il fervore ereditato da Susone. Possiamo dire che il centro del misticismo di Taulero è la dottrina della visio essenzie dei, la visione dell'essenza di Dio, ossia la beata contemplazione della conoscenza della natura divina. Questa dottrina viene mutuata da Taulero direttamente da Tommaso d'Aquino, anche se si avventura Taulero ben oltre nel credere che la conoscenza del divino sia raggiungibile in questo mondo da un uomo perfetto e che dovrebbe essere ricercata con ogni strumento. Dio per Taulero è presente in ogni essere umano e per fare sì che questo Dio trascendente possa apparire nell'uomo come un secondo soggetto, le attività umane peccaminose devono cessare. In questo tentativo un aiuto è dato dalla luce della grazia che innalza la natura umana al di sopra di essa. La strada che porta Dio è la strada dell'amore, da che Dio risponde alla sua più alta espressione mostrando la sua presenza. Taulero dispensa a questo riguardo i consigli più diversi per raggiungere l'apice della religione, dove cioè il divino entra in contatto con l'uomo. Bisogna dire qualcosa a proposito della posizione di Taulero con rispetto alla chiesa. Lutero ad esempio lodò ampiamente Taulero e i protestanti hanno sempre avuto un'opinione molto alta di Taulero, includendolo tra i riformatori prima della riforma. Tuttavia adesso si ammette che in realtà Taulero era interamente medievale non protestante. In effetti Taulero era un figlio rispettoso della chiesa e non pensò mai di venire meno alla sua fedeltà rispetto alla chiesa stessa. Il tema si trova bene al centro del suo sermone su San Matteo, dove Taulero si schiera duramente contro l'eresia, soprattutto quella di Bretren sullo spirito libero. Tuttavia ciò che attirò Lutero forse non fu la dottrina in sé di Taulero, ma solo qualche pensiero secondario sparso qua nei suoi scritti. Chissà, forse piacque a Lutero che la parola indulgenza apparisse solo una volta nei sermoni di Taulero, o forse apprezzò il fatto che Taulero desse meno importanza alle opere, o forse ancora, chissà, Lutero era affascinato dalla profonda onestà di quest'uomo impegnato in una incessante ricerca di Dio. Grazie 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 Grazie.